Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear that dream? Solo farvi vedere le posizioni per chi non le ricordasse La prima è proprio là davanti come vedete siamo al limite di sponde del saccheggio La trovate nella strada verso il quartiere Ce ne sono altre due ragazzi in giro per la mappa Ve le faccio vedere la prima si trova qua e la vediamo anche segnata Praticamente rispetto a dove siamo noi è avanti dove cavolo è finito di qua Quindi sempre dritto passiamo alla montagna E la terza palla ragazzi invece si trova nel bioma del deserto La posizione è proprio questa in poche parole come vedete dietro palmetto paradisiaco Quindi ragazzi molto semplicemente andate contro una palla colpiterla Tirategli una picconata prendetela di testa e se volete potete quittare Tanto la sfida dovrebbe assegnarvela lo stesso Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video Un bel pollizioni in su iscrivetevi al canale E vi ricordo che tutti i tutorial per i 14 giorni dell'estate di Fortnite Li trovate nella playlist nella home page del canale Noi ci vediamo in live Ciao 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 Grazie per la visione!